Il maggiore successo politico di Marx fu la diffusione del Manifesto, il Manifesto del Partito Comunista. Tutti i gruppi socialisti e comunisti lo riconobbero un po' come la loro Bibbia, lasciatemi dire. Vorrei ricapitolare innanzitutto i punti salienti, le tesi fondamentali del Manifesto, che possono essere le seguenti. Prima di tutto la storia è storia dei conflitti di classe. Secondo, tutti i conflitti hanno visto lo scontro frontale fra una classe che ha il possesso dei mezzi di produzione e una classe di produttori. Questo conflitto si produce come lotta per il potere politico, considerando che è un riflesso anche del potere economico innanzitutto. Terzo, l'intera storia occidentale è scandita da un'alternanza di strutture socio-economiche che si manifestano anche come un'alternanza dei modi di organizzazione del potere, cioè un'alternanza del potere politico. Quarto, la borghesia, nata dall'evoluzione del modo di produzione feudale, passando poi al mercandilismo e dal mercandilismo all'industrialismo capitalistico di produzione. Bene, la borghesia è stata una classe rivoluzionaria, ma Marx considera che al suo tempo la nuova classe rivoluzionaria è diventata il proletariato. Quindi, obiettivo immediato del proletariato è la conquista del potere con la forza e l'attuazione della dittatura del proletariato. Di qui la necessità dell'unione di tutti i proletari, al di là del grado di sviluppo raggiunto al capitalismo nei singoli paesi e della situazione politica che vi è nei singoli paesi. La dittatura del proletariato va considerata come mezzo per raggiungere il fine e il fine è la realizzazione di una società senza classi, il comunismo. Questo testo di Marx ci permette anche di stabilire le differenze tra il marxismo scientifico di Marx e le altre espressioni del socialismo di quell'epoca, di quell'epoca in cui è stato pubblicato il manifesto. Esiste un socialismo cosiddetto reazionario che parte dalla critica della società borghese ma sfocia nella proposta di un ritorno a condizioni pre-borghesi con il ritorno per esempio alle corporazioni medievali o all'economia patriarcale. Esso pretenderebbe di far girare all'indietro la ruota della storia, dice Marx. C'è poi il socialismo conservatore borghese rappresentato da quegli economisti, filantropi e umanitari i quali si propongono di porre il rimedio agli inconvenienti del capitalismo ma senza toccarne però la sostanza. Il maggior rappresentante di questo tipo di socialismo è Proudhon che vuole, dice Marx, una borghesia senza il proletariato ovvero propone una serie di riforme per migliorare le condizioni del proletariato ma intende a rimanere il modo di produzione borghese ed è assolutamente contrario alla rivoluzione. Per Proudhon nella società liberata forme di piccola proprietà possono continuare a sussistere accanto alle forme di proprietà collettiva. Vi è poi il socialismo e anche comunismo critico-utopistico di Saint-Simon, di Fourier, di Owen che ritengono sia utopistico il superamento della società divisa in classi e non individua il proletariato come classe rivoluzionaria. Costoro proponevano un sistema sociale ed economico differente dal capitalismo prevedendo la scomparsa o la limitazione della proprietà privata, la corporazione collettiva e l'uguaglianza sociale ed economica. Pensavano quindi alla formazione di comunità egualitarie, modello di una futura utopistica società ideale. Il manifesto di Marx invece presenta in maniera del tutto diversa i combiti del partito comunista, il partito che è distinto dagli altri ma che costituisce la parte più risoluta dei partiti operai di tutti i paesi. Il programma dei comunisti è incentrato sull'abolizione della proprietà privata, sull'abolizione non della proprietà in generale perché da essa deriva il capitale che oltre che è potenza economica è anche potenza sociale e quindi determina non solo il modo di produzione ma anche i rapporti sociali. Il comunismo, dice Marx, non toglie a nessuno la facoltà di appropriarsi dei propri prodotti sociali, toglie soltanto la facoltà di valersi di tale appropriazione per asservire il lavoro altrui. Questo sfruttamento può cambiare solo con la conquista del potere politico da parte del proletariato. Segue poi a questo l'accentramento del potere statale nelle mani della classe rivoluzionaria da cui deriva quindi l'abolizione delle classi e quindi alla fine la dittatura del proletariato. Con la vittoria del proletariato vi è il superamento della divisione in classi e questo progetto di società che dovrà nascere dalla rivoluzione proletaria secondo il manifesto viene sintetizzato da Marx in questo modo. Al posto della vecchia società borghese con le sue classi con i suoi antagonismi di classe subentra un'associazione nella quale il libero sviluppo di ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti, dice Marx. E a ciascuno pertanto verrà garantito tutto ciò che gli è necessario per vivere e ciascuno contribuirà all'affermazione del capitalismo ma soprattutto al bene e al benessere comune secondo le proprie possibilità.